Che bravi, che bravi, che bravi E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, che sentite di chiamare Stealing the Diamond E siamo qui con un altro fantastico giochino degli Stickman In cui questa volta dovremo cercare di rubare questo bellissimo diamante super sbrillucicosa Esattamente, dobbiamo riuscire a rubare, sarà parecchio difficile, ci sarà tantissimo da ridere Il primo episodio pensavo che vi sarebbe piaciuto un po' di più Però a noi è davvero piaciuto tanto 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 Quindi proviamo a portarvene un altro a vedere se questa volta vi comincia di più Speriamo di sì perché sono davvero fantastici secondo noi Esatto, mi piace un sacco, sono troppo divertenti Poi io adoro vedere tutte le possibili vie Possiamo decidere se Sneaking immagino sia a nasconderci Altrimenti fare un effetto super, capito? Esplosivo Bomba, vai Vado? Lo sapevo Vediamo Allora Aspetta, che succede? Non lo so Ok Vai, un carro armato Dici? Cioè un carro armato Ah no Da carro armato a monopattino Però ce ne vuole Però dai, ti ho fatto l'illusione Aspetta Dovevi fare qualcosa a tempo Non me l'aspettavo Allora Cambiano tutti sti giochi, quindi ti devi concentrare Kick Ok Mi sono male uguale Non è andata bene Proviamo jump Allora, jump Ah, sei saltato Ok Ok, quasi Quasi E l'ultimo cos'era? R Era quello giusto Ce l'abbiamo fatta? Sì Beh, a furia di provarli tutti Non mi stupisce Allora, no, è tutto a posto Tranquillo Non avvisare nessuno Non è niente È una tua immaginazione È una tua allucinazione Esatto Hai dormito poco Non c'è nessuno con un monopattino dentro Allora, voglio Lancia Perché mi piacevano un sacco Oddio Che fallimento terribile Peggio di così È impossibile Allora Mazza Mazza, dai, sì No Ma sei un imbranato Come puoi sbagliare tutto Le guardie si sentono in imbarazzo anche a spararci Da quanto siamo scappi E direi Ma chi è che ti vorrebbe sparare? L'ultimo Per forza è lo scuso Va bene, in effetti Così parliamo i proiettili E andiamo dritti Sì, hai ragione Ha senso Qua un altro che dormiva Tutto a posto Tranquillo Ci siamo già? Allora Eh Vai Ok Credo che sia troppo pesante Esatto, infatti Lo stavo per dire Però Avevo comunque il dubbio E allora Questo Ok Ok Sì Non è proprio il miglior modo No, non c'è Assolutamente no Dovresti organizzarti con una bella sacca Un qualcosa che lo possa contenere Esatto Oh no, devo essere pronto L'inseguimento con la polizia Facciamo così Non ho capito neanche cosa è successo Aspetta, lo voglio rivedere Credo che abbiamo sbattuto su un Un albero Oh, l'abbiamo tirato Vediamo Oh, forse non li prendo Ah, no, prima non ho cliccato nulla Ok Sì, vabbè, ma il diamante Ma poverino Vabbè, oh Mi, GTA, la polizia, le stelline È arrivato l'elicottero a tre stelle, infatti Questa l'ho capita, finalmente Cosa ha fatto? Non lo so Ok, certo Wow Sì Sì, no, è giusto, è giusto Funziona Molto probabile Molto probabile Ma arriviamo anche a cinque stelle? No No, ok Purtroppo no, sarebbe stato bello Dovevo vedere il carro armato Ok Oh no, c'è il ponterot È ora? Bellissimo Era la scelta giusta? Sì Ma affoghiamo No, no, guarda Ok, tutto a posto Tutto ok È lo stradionante che fino ha fatto Ah, eccolo Che bravi Che bravi Che bravi E comunque sì Anche nell'altro questa scelta durava abbastanza poco Sì Quindi l'altra secondo me è quella un po' più lunga Sono troppo bello Allora, vai Proviamolo in stealth Esatto Sì, sì, sì Senza farci scoprire Allora Oh, così sì che si ragiona Allora, che facciamo? Il teleporter Vai, il teleporter Qual è? Questo Quello in alto Voglio provarlo Lo sai che vanno sempre male le cose tecnologiche Sì, ma mi piace Ok Ok, no, non ti è andata bene No Oh, forse sì Ha funzionato? Ce l'hai beccato subito Incredibile Un genio Allora Invisibilità Esatto Vai, voglio provare quella Da Si sentono i passi però Stai falle Tutto a posto? No Ok Ah, è difficile vedere quando sei invisibile Non vedeva neanche lui Vabbè, ma dai Allora era un po' una cosa Allora Il Falcon Punch Quasi 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 Questo sembro io quando provo a fare una Kamehameha E realizzo che Che non la puoi fare Esatto Proviamo a lanciare un Penny La classica cosa Tieni, vai una moretina Ha funzionato No Ha funzionato Ma che cosa terribile Qua Scusami, eh È un classico No, no Non ti dovevi lanciare Ah, non avevo il filo C'era l'altra col filo Per dire Ah Pensi davvero che avrebbe funzionato? Allora così Certo Questo è il classico cosa da film Da, esatto Da film Ok, infatti ha funzionato Allora Ovviamente con un martello, no? Sì Ma non dirmelo, dai Sta funzionando tutto Ma non ci credo Allora Ci serve un'arma? Cannone Il formaggio No, non dovevi usarlo così il cannone No, 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 no No, togliti Non è una buona idea Ecco qua Esatto Aia Esatto È andata Tutto ok Non fatevi domande Non è il vero diamante Uno finto Esatto State cascando Il formaggio O il plank Formaggio Voglio vedere che serve Eh? Ok Why? Me lo chiedo anch'io Perché? Ok Va bene Sì Magari era buono Dai Eh sì dai Almeno ti sei fatto un bello spuntino Prima di scappare Con un diamante pesantissimo Eh perché questo era il piano migliore Davvero? Sì Wow Sinceramente io qua li farei cadere il diamante addosso Sì Però voglio provare prima a fare qualcos'altro L'abbiamo mancato davvero venti volte? Sì Ok Capita Se non sai sparare non sai sparare Poi Proviamo con un salto Adesso lo fa cadere in testa e lo stende Pam Mi sembra giusto La tattica migliore L'abbiamo proprio distrutto poveraccio Eh sai pesa Ce l'abbiamo fatta Senza farci scoprire Senza farci scoprire Bellissima questa Guarda lo yacht che ci siamo comprati Eh guarda Proxy Ci vestiamo da gentleman qua Bellissimo Magari fosse così semplice rubare Non ci percontare Magari Non è vero Non si fanno Non andate a rubare nei musei Allora torniamo allo start Io voglio tornare su sneak Qua avevamo Due miliardi di scelte Come nell'altro Sì ma mi piace farli così Ah ok ok Possiamo scegliere Ah Ho capito Praticamente avevi una possibilità su tre di azzecare Come andare in alto Ah ok E una possibilità su tre su come andare normale Allora concentriamoci su come andare Con lo shrink ray Esatto Sì Siamo minuscoli Siamo una formica Zetta la formica No siamo Antman E' un verme questo Sì No scappa Ho mangiato Eh sì Che vuoi questa è un'agitazione a Worms Lo so Allora riproviamo Vediamo Liquidificator Cili Allora già ci sono delle istruzioni No dai fai disastri sempre con questi macchinari Sì ogni volta che ci sono delle istruzioni va a finire male Fa disastri Sì Però proviamoci dai Ecco qua Ma dovevi mirare dall'altra Dai almeno quello era un po' scontato Se l'hai mirato in faccia Era la parte più semplice Allora col piccone E quindi qua col piccone Alla vecchia maniera Però a sto punto ci proviamo un attimino gli altri per andare in alto Certo Iiii Quasi Riprova No dove stai andando Ok Proviamo l'anti gravity Ok Che teoricamente ci fa fluttuare Adesso lo disattivi Secondo me non ci fermiamo però eh Vedi esatto E fluttuiamo Non si spegne Vabbè Verso l'infinito e altre Sei fortunato Ho sempre voluto andare nello spazio Anch'io sì Anche noi È molto fortunato E quello che volevo dire Almeno ce ne andiamo sullo spazio Certo Non ci credo Minecraft Non ci credo In effetti il piccone perché non l'abbiamo capito subito Dai Bellissimo Usi il piccone per entrare Fidati che l'aeroplano è quello giusto Ne sono sicurissimo Te lo dici tu ok Dai proviamo Spero però che non ci proviamo a salire sopra Ok 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 Ce l'abbiamo fatta Dove andiamo Ma è pieno di scelte Potevo scegliere Ciao Allora Il tiamonte Sì però Qua c'è un lucky block La pokeball Luigi La pokeball Super Mario No quelli voglio provare tutti Allora Andiamo di pokeball Non ci credo Non ci credo Allora Siamo pazzi Vai ha messo a gioco come pokemon Che cos'è Scusate Ok Scusate È impazzito tutto Il computer non funziona più Giustamente Ok Aspetta come devi E le trai Allora Mai più la pokeball Esatto non è una buona idea Vai Super Mario Perfetto Proiettili non ci fanno effetto No 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 Adesso diventa una sfida contro Godzilla O qualcosa del genere Ma Guarda Ma che disastro No Ah pensavo l'avessimo rotto Anch'io Adesso chi ci ha preso Un cannone Però siamo ancora vivi Ce sta succedendo di tutto Guarda Sta andando però secondo me Dove siamo Non siamo noi Lo so che non siamo noi Secondo me avvisando Che ci sta Che sta succedendo qualcosa di strano Esatto E quindi adesso ci tireranno una bomba E poi questo secondo me la citazione è un film E non la sto capendo Non so perché mi sono trovata a dover premere qua Nucleare Nucleare Ok Due Uno Mi spiace Un po' eccessivo Però andava fatto Come puoi non provare la bomba nucleare Scusami se me la metti lì Allora Questo credo sia un satellite Satellite Vabbè certo Ma che spara Non è una buona idea neanche qua No vedi No È peggio del nucleare Sì È impossibile che un satellite sia peggio di un nucleare Ma va bene Questo cos'è secondo te Non lo so Non l'ho capito Vai Vediamolo dai Cosa succede Ok Una calcolatrice Più o meno Sì Un 133 1337 Diviso 0 Uguale Buconero Buconero Ok 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 Strano Mi ha lasciato confuso Sì anche a me Mi sta confondendo questa direzione che abbiamo preso Esatto Non è molto Un po' molto strana È un po' strana anche per noi Che Ma che È un Power Ranger No più o meno È molto più letale questo Sì Però secondo me Guarda Tutto distrutto E noi ce lo prendiamo Il diamante libero L'uscita libera Ce la possiamo fare Ce lo prendiamo e scappiamo Dai Corri Ce la fai Dai Oh mio dio Cosa devo fare? Sono pronta a cliccare quasi di cosa Corri Corri Occhio Occhio Guarda le esplosioni Esatto Secondo me succederà qualcosa di molto strano in questo momento No vabbè c'è il robot che sta annientando Tutto Ma perché ce l'hai col museo? Dovevi prendertela solo con noi Ma lui non lo sa È evidentemente un robot un po' Vediamo Non è ancora finita Ok il diamante Epic Non era epica questa Era strana No era epica Era epica Epic ending Bellissimo Io l'avrei chiamata strange E basta Allora Vorrego capire Ho sbagliato Metroid Proviamo Metroid Vai Attacca noi Ci mangio vero? Mai fidarsi Mai fidarsi Era ovvio Proviamo anche il piede di porco Certo ormai È da provare Come sono scusami? Non lo so Mi spieghi il senso? Comunque io direi che ci possiamo fermare così per questo video Se vi piace Magari il terzo video Facciamo una combinazione Tra il primo e il secondo In cui cerchiamo Di finirli entrambi Altrimenti Ne giochiamo dietro Esatto Poi li recupereremo in futuro Vediamo un pochettino Comunque ci fermiamo così Fateci sapere nei commenti Che cosa preferireste Lasciate un bel like Se vi è piaciuto E ci fermiamo così Bene che se riesce così Se ci piace Sciateci un bel like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Grazie per la visione!